Il calcio di serie D Domenica a Selva Piana, derby di ritorno tra Campobasso e Olimpia Agnonese Lotta a tre, ormai in vetta alla classifica Il notaresco è stato raggiunto dal Matelica Il Campobasso in segue a tre punti La venticinquesima di campionato andata in scena nel girone F Porta novità al comando Dopo circa 23 giornate consecutive Non c'è più solo il notaresco pareggiato in graduatoria dal Matelica E' la certificazione di quello che stiamo dicendo da tempo Gli abruzzesi hanno ceduto di schianto Domenica la sconfitta a Porto Sant'Elpidio Ha ufficialmente riaperto il campionato Campobasso mai così vicino alla vetta Il successo sofferto contro il Montegiorgio Permette oggi agli uomini di Cudini di vedere la vetta Tre lunghezze di distanza Non dimentichiamo in questo discorso di vertice La Re Canatese che accusa un punto dai lupi E ovviamente quattro dalle battistrada Campionato bellissimo Quattro squadre racchiuse in quattro punti Per la vittoria finale Il rigore di Alessandro al 26esimo del secondo tempo Decisivo ai fini del risultato Porta in dote tre punti fondamentali Gara sofferta Montegiorgio Battagliero è abbottonato Brava la squadra di Cudini a trovare l'episodio decisivo La giocata del singolo La scaltrezza di bontà Abile a procurarsi un rigore sacrosanto Da una situazione di gioco quasi inoffensiva Successo prezioso Un girone intero senza perdere Proprio all'andata contro i marchigiani L'ultima sconfitta del campo basso Il sogno continua a prendere forma Nove giornate alla fine del torneo Un finale di stagione Che si preannuncia combattuto e serrato Con una lotta al vertice aperta Ad ogni tipo di scenario Con quattro squadre in lizza La vittoria di Montegiorgio È sicuramente un ulteriore step di crescita Il campo basso non ha avuto fretta Giocando con attenzione Prima di stanare gli avversari con il rigore di Danilo Alessandro Ora il colpo d'occhio della classifica Ha tutt'altro sapore Il distacco profondo Arrivato ad oltre 15 lunghezze Esattamente un girone fa È un vago ricordo L'obiettivo è quello di ragionare step by step Per inseguire una rimonta assolutamente clamorosa E contro ogni pronostico A partire dalla prossima gara Contro l'Olimpia agnonese a Selvapiana Semplice dire oggi Io credevo nella rimonta Chiacchiere da bar, la verità E che Cogliati e compagni Hanno sorpreso tutti Con una striscia di risultati incredibile Il derby alto-mollisano È stato sicuramente uno spettacolo In campo e sugli spalti Uno a uno al termine della contesa Un pareggio che non soddisfa Nessuna delle due squadre Il vasto girardi recrimina Per il rigore fallito da Chiere Mateng Nella ripresa che poteva cambiare gli esiti L'Olimpia agnonese protesta Per una direzione di gara Che effettivamente ha lasciato Più di qualche perplessità Nel computo un punto a testa Che muove la classifica Per i Granata non cambia nulla In ottica play-off Con il quinto posto Mantenuto in coabitazione con il Pineto Che ha pareggiato in casa con il Tolentino Per il vasto girardi È un altro piccolo passo Verso la salvezza diretta A quota 34 Il team guidato da Farina È a meno 6 Dalla fatidica quota dei 40 punti Stima per la salvezza diretta E a più 9 Dalla zona play-out Insomma per Scaramanzia Non diciamo nulla Bisogna chiudere ogni discorso Ma la salvezza dei giallo-blu È sempre più vicina Nel derby Botta e risposta Petrone Allegra Due gol arrivati Nei primi minuti di gioco Poi operazioni condotte Per lo più dal team di Rullo Con possesso palla E diverse occasioni da rete Decisivo come detto Prima L'errore dal dischetto Del Colored di Farina Terzo errore Stagionale Dagli 11 metri Per il buon Giovanni Che questa volta Non è stato decisivo A sua discolpa Va detto che sono stati Davvero tanti Penalti calciati Oltre dieci Da inizio stagione Coppa Italia Compresa Un numero Davvero elevato Ruggeri e compagni Accolgono infine Il punto con favore In attesa Della difficilissima sfida Contro la neocapolista Matelica A Montegiorgio È bastata una rete Di Danilo Alessandro Per portare a casa L'intera posta in palio Ne abbiamo parlato Proprio con L'attaccante Rosso-Blu Dopo il gol Hai scaraventato via La maglia E si è andato a condividere Le soltanze con i tifosi Un gesto liberatorio Perché insomma Era una fase difficile Della gara Non riuscivate a trovare spazi Sì sì È stato Un gol Una liberazione Perché siamo stati Tutta la partita A cercare di Di fare gol E di andare in vantaggio Poi è successo E sono andato lì Ma era tanto che Io se vedete I primi gol Che facevo Non esultavo più di tanto Perché magari Eravamo troppo distanti Dalla vetta E Non me la sentivo Adesso che siamo lì Una liberazione Oggi è stato troppo bello Fare gol E andare sotto Sotto i nostri tifosi Adesso 27 punti Ancora da giocare 3 dal primato Con Una squadra Che è il Matelica Che appare Un po' più In forma Del notaresco Il Campobasso Per vincere Cosa deve fare? Non deve guardare Nel Matelica Nel San Nicolò Dobbiamo guardare noi Soprattutto Non fare programmi Dobbiamo guardare Partita per partita Perché se cominciamo A fare i calcoli Ci affossiamo da soli Quindi Come ho detto prima Accantoniamo questa vittoria E pensiamo già al derby Perché sarà Sarà una partita Dura E Sempre un derby Quindi Dobbiamo pensare già Domenica Se vogliamo Se vogliamo Vincere questo campionato C'è un feeling particolare Tra te e il pubblico Abbiamo notato? Sì Probabilmente all'inizio Non era così Con tutte le difficoltà Annesse Sì Mi fa piacere Mi chiamano Mi danno Tanta forza Sento il loro supporto Mi stanno aiutando tanto All'inizio Magari Venivo criticato Ma giustamente Perché Non stavo rendendo Come potevo rendere Però li ringrazio Perché mi stanno dando Davvero tanto Spero di regalargli Una gioia Alla fine Ecco In caso di Questa gioia Che dici tu Cioè di salto di categoria I capelli da biondi Diventeranno rosso blu Decidete voi Poi Se succede Farò Qualsiasi colore E' stata posticipata Venerdì mattina Alle 11 Presso la Sala Raucci Del Comune di Isernia La conferenza stampa Di presentazione Dell'evento In gioco O fuori gioco In programma Lunedì 2 marzo All'auditorium di Isernia Un convegno Dove si parlerà Di come poter Combattere il bullismo Anche tramite Lo sport L'evento è promosso Dal Comune di Isernia Dalla Regione Molise Ufficio regionale Scolastico Del Molise E Nuova Atletica Isernia Calcio a 5 Di Serie A 2 Il Custo Molise E' già proiettato La trasferta Di Barletta Tornando all'ultima uscita Stagionale Ai nostri microfoni Sanginario Ha commentato Il KO Con il Cassano Marco Sanginario Cassano Poco da dire Squadra forte Squadra di qualità Però voi In qualche modo Siete riusciti a trovarvi Quel 2 a 2 Quel palo Poi tiro deviato Ho già detto Con il capitano Di Stefano Lì forse Poteva cambiare un pochino La partita Però quando giochi Contro avversari del genere Ci vuole anche Quel pizzico di fortuna Beh si è detto bene La chiave Di lettura Della partita E' perfetta Vanno fatti i complimenti Innanzitutto Il Cassano Che è una delle prime volte Che scende al completo Anzi no Perché mancava sempre qualcuno Però ha avuto Delle vicissitudini Durante la stagione Che è del mestiere Sa che cosa sto dicendo Quindi abbiamo affrontato Una squadra che Credo sia una delle più forti Viste al Palau Unimol Detto questo Dobbiamo come sempre Rimarcare Qualche errore nostro E tanta voglia Di fare bene Abbiamo regalato Forse i primi dieci minuti Poi dopo Un ragazzino 99 Verlencia Ha suonato la carica È entrato con una determinazione Non paragonabile A quella degli altri Paraglialmente Il più piccolo Ci ha dato una lezione Di umiltà Ma allo stesso tempo Di non timore Dell'avversario Da lì siamo riusciti A rimetterla in vieti Poi come hai detto tu Se entra quel palo Di Debetio A 7-8 minuti Alla fine Probabilmente Si vede un altro finale Non è detto Che portavi a casa I tre punti Però sicuramente Sarebbe stato un altro finale Concordo con te Soprattutto nel primo tempo Si vede subito Insomma quando una squadra Scende diversamente Loro devo dire Sono scesi col piglio Della grande squadra Volevano il risultato Voi così così Almeno in avvio Ti dico Marco Loro Era la partita della vita Perché Come diceva il loro presidente Nell'intervista La rincorsa ai playoff Passava necessariamente Per campo basso Loro hanno partite Abbordabili in calendario E credo che Se passano in denne Anche la prossima Hanno serie possibilità Non solo di fare i playoff Ma anche di vincerli Detto questo Guardando in casa nostra CLN Cusmo Lise Sabato prossimo La partita contro il Barretta Che può probabilmente Darvi quella Spinta decisiva Per mantenere la categoria Che insomma Lo ricordiamo Non è un risultato da poco Infatti no Guardiamo sempre dietro E tu Da uomo di sport Sai bene che Probabilmente Qualche scelta finale È stata fatta Anche in funzione Della partita di sabato A cui teniamo tantissimo Perché vorrebbe dire Salvezza diretta E per cui Ci aspetta una settimana Di lavoro Di sacrificio Ma soprattutto Di testa Sacrificio mentale Per farci trovare Pronti sabato A quella che potrebbe essere La battaglia finale Per la salvezza Basket femminile Di serie A2 Doppio turno di riposo Per la molisana Campobasso Mia Masic Ha commentato Il successo Contro Livorno Mia Masic Allora sono arrivati Altri due punti Una buona partita Una buona vittoria Insomma Altro morale Eh sì Un'altra vittoria Importantissima Insomma Ultimo mese Stiamo facendo Veramente Un grandissimo lavoro E Posso dire Che siamo Cioè Diventate ormai Una vera Propria seria Squadra E Tanto tanto unita Senti Tu sei arrivata Per ultimo Qui Comunque Dopo un inizio Un po' non semplice Ti sei proprio Ambientata bene Sì all'inizio È normale Che ti devi adeguare Poi Le compagnie squadre Un certo livello E Pure l'allenatore Quindi Insomma Mi sono data da fare Però ecco Ormai Faccio parte Della squadra E siamo entrate In sintonia Forse nelle squadre Dove hai giocato In precedenza Prendevi più tiri Qui in una squadra Diciamo Con un livello Più alto Ti sei anche dovuta Tu adeguare Eh sì Diciamo che sono Abituata Di prendere Un certo numero Di tiri Però Sinceramente È molto più bello Giocare Con una squadra Di un certo livello Ultima considerazione La testa È alla Coppa Italia È un trofeo A cui tenete Ci saranno due settimane Forse la sosta Potrebbe essere Un handicap Allora io non guarderei Come un handicap Diciamo che Ci sta di recuperare Un attimo Sia Stato fisico Che mentale E Insomma Rimaniamo sicuramente Concentrate Alla Coppa E Insomma Speriamo bene Per il calcio regionale Il Treppini Matese Domani sarà impegnato Nella prima fase nazionale Della Coppa Italia Adilettanti Trasferta in provincia Di Teramo Contro la Polisportiva Torrese Per il match D'andata Degli ottavi Di finale Per il campionato Di promozione L'Ururi Bloccato Sul pari Dal termo Nel 2016 Ne abbiamo parlato Con il tecnico Mister Rocco Melchiorre Giornata positiva Anche se è pareggio Rimane in testa La classifica Però pareggio In questo derby Molto sentitosi Da una parte E dall'altra Voi avete pagato Anche un po' Le tantissime assenze Ma L'assenza Non mi piace parlare Perché Chi ha giocato Ha mostrato Che Può giocare titolare Abbiamo giocato Alla pari Considerando che abbiamo Giocato oltre un'ora In dieci Oltre un'ora L'espulsione c'era Niente da dire E quindi Abbiamo retto Il colpo Fino alla fine Anzi Nel secondo tempo In dieci Abbiamo avuto anche due o tre palle gol Che non siamo riusciti a sfruttare E quindi A me va bene così Poi ti sei arrabbiato tanto Verso la fine Sull'episodio di Verlengio Ma non è solo su quello Su tanti episodi Perché Non ne ha presa una Né da una parte Né dall'altra Perché Come ho da recriminare io Ho da recriminare Il Termoli 2016 Non ne ha beccata una Non ne ha beccata una Niente Zero Zero Assoluto E addirittura Poi per noi c'era il rigore Cioè Voglio dire Stiamo giocando in dieci Rigore netto Tu non dai un rigore del genere Che Fammi capire Che te la sei fatta sotto E onestamente Non si può accettare Una cosa del genere Non si può accettare Punto Alla fine questo pareggio Vi lascia comunque Lì sopra In vetta la classifica Per adesso sì Vediamo cosa fa Il Castel di Sangro Domani Però insomma Aver preso un punto qui In dieci Per oltre un'ora Sono contentissimo Anche perché In dieci hanno fatto Una partita strepitosa Sono stati bravi Ragazzi Tutti bravi Un elogio particolare Per la concentrazione Soprattutto perché Non hanno mollato mai La linea difensiva Veramente insuperabile Questa giornata Sì sì Grazie a Dio Abbiamo una difesa rocciosa E per questo Noi nei momenti Di bisogno Possiamo appoggiarci a loro Perché sono bravi Dietro reggono colpo su colpo Infortuni Infortuni Tanti Tantissimi Tantissima gente fuori Dovrà recuperare Qualche giocatore Per domenica Per domenica Non lo so Vedremo Spero di sì Ma ho qualche dubbio Però andiamo Va bene Andiamo avanti così Perché Quelli che siamo Siamo tutti validi Quelli che ci stanno Vanno bene Noi abbiamo 23-24 persone Chi manca Manca Io non troverò mai La scusa Che manca quello Manca quell'altro Perché chi ha giocato Ha giocato benissimo Niente da fare Niente da fare per il Trivento Beffato al novantesimo Dalla Volturnia Il portiere Dei Giallo-Blu Jacopo Esposito Non sono bastati I tuoi interventi Per portare A casa Punti Nella sfida Con la Volturnia Se siete stati puniti Nel finale Una sconfitta Che fa tanto male Perché Potevamo Allungare E invece Ci dobbiamo Rimboccare le maniche E rincorrere di nuovo Quindi Testa bassa Durante la settimana Ci aspetta una partita Tosta Fuori casa Con lo Spinete Dovevamo fare Molto molto meglio Dovevamo continuare A fare Il buon primo tempo Che abbiamo fatto Però Uscita la grande squadra Che è il Volturnia E secondo me Ha fatto una grandissima prestazione Quindi Alla fine Il risultato Merita La loro vittoria Da parte vostra Nel secondo tempo Avete creato Qualcosina È mancata un po' Di freddezza Sottoporta Però Alla lunga Si decalati Logicamente Potevamo fare Di più Però L'ho detto Dovevamo magari Fare meglio Con le occasioni Nel secondo tempo Anche con Manfrini Nei cross Che non abbiamo sfruttato Le due punte centrali Però Dobbiamo Stare calmi Sono rimaste ancora Tante partite Quindi Dobbiamo ripartire Dai primi 20 minuti Del primo tempo Per rimetterci In carreggiata Versi pre-off Prossima tappa Dicevamo Spinete Partita Difficile Contro una squadra Che soprattutto In casa Rende la vita dura A tutti Andiamo a vedere Il percorso Che ha fatto Lo Spinete È risalita tantissimo Anche lei È in zona playoff Quindi Sarà una battaglia Anche perché Loro Come hai detto Anche tu Sul campo Loro Sono un'ottima squadra Però Non Non dobbiamo Abbassare la guardia Dobbiamo fare solo Il risultato E vincere E riprendere i punti Che abbiamo perso Qui in casa Trasferta amara Per il Ripalimosani Che ha ceduto Alla Cliternina Ne abbiamo parlato Con Gala Gianluca Gala Bella prestazione Non è servita Tanto a Ripalimosani Perché ha dovuto Assaporare il gusto Amaro della sconfitta Sul campo Della Criternina Però ora Siete giocati A viso aperto Siete passati In vantaggio Poi avete subito La loro rimonta Però poi avete anche Sciupato la possibilità Del pareggio Sì Il primo tempo Siamo partiti bene Abbiamo avuto Fortunatamente L'occasione del gol L'abbiamo sfruttata Peccato aver subito Subito il gol E diciamo Aver subito Anche un po' Il colpo del pareggio Il secondo tempo Invece Non Non siamo riusciti A fare la stessa prestazione Del primo tempo Siamo calati Un po' Di intensità Poi purtroppo Il calcio è fatto Di episodi Il rigore È stato un episodio A favore per loro E l'hanno saputo sfruttare Poi avete avuto L'occasione Di poter pareggiare Sì Purtroppo È un periodo un po' così Non riusciamo a approfittare Di quelle occasioni Che ci capitano Gli avversari Casomai alla prima palla Fanno gol Noi invece Dobbiamo fare 5 o 6 Per farne uno È un periodo un po' così Ma Dobbiamo ripartire Al più presso Perché La classifica è corta Se vogliamo puntare A qualcosa importante Dobbiamo darci una svegliata Bravo anche Diego Di Stasi Almeno in tre occasioni È stato superlativo Sì sì No Fortunatamente abbiamo Un grande portiere Che gioca con noi Anche oggi Ha evitato Un passivo Più pesante Momento non brillante Per il Ripa Pareggio domenica Sabato scorso In casa Questa sconfitta All'orizzonte C'è la gara di sabato prossimo E poi c'è la capolista Che vi viene a far visita Sì Abbiamo una partita in casa Con il Biccari Poi successivamente Se non sbaglio C'è la sosta E lì dobbiamo un attimo Recuperare Sia a livello fisico Ma credo più a livello mentale L'energia Per giocare bene Con l'Ururi In casa Campionato di prima categoria La Turris Mantiene la vetta Della classifica Pasquale Videtti Direttore sportivo Della Turris Una Turris Che non ha mollato Dal primo giorno No Non ha mollato Dal primo giorno Abbiamo costruito Nel corso dei mesi Un gruppo Fantastico Di ragazzi Che hanno un obiettivo Ben fisso Nella mente Che è quello di Arrivare alla fine Dove siamo oggi Una bella squadra Ci è perso di vedere A partire proprio Dal portiere Che con il Larino Con la fiamma Larino Ha fatto qualche miracolo Sì no Il portiere Nicola Ne ha fatti tanti Di miracoli Quest'anno Fa parte del gruppo Quindi Ci tiene tantissimo Ed è giusto Che faccia il suo Come tutti quanti gli altri Insomma La Turris Non teme nessuno No Rispetto per tutti Ma Paura per nessuno Siamo arrivati Diciamo Negli ultimi due mesi Decisivi Era quello che C'eravamo prefissato All'inizio Cioè stare In vetto Nei primi posti Fino alla fine Ora siamo lì Abbiamo un bel margine Di vantaggio Questo naturalmente Ci deve dare la coscienza Di poter gestire Ma non mollare un centimetro Perché il calcio è strano E si vince Quando fischia l'albitro Prossimo incontro Toro Un campo difficile Immaginiamo Sta facendo anche Dei risultati Ultimamente Noi soffriamo un po' I campi Che non sono sintetici Fuori casa È un'altra storia Ogni domenica È una partita a sé Quindi Domenica sarà dura Ma già da martedì Ci prepareremo al meglio Per affrontarli Il centro sportivo Pattinaggio Campobasso È stato impegnato Ad Avezzano Nel campionato regionale Di corsa Indoor Per la prima volta Un'attraeta molisana Ha ottenuto il punteggio massimo In tutte le tre specialità Conquistando il titolo Di campionessa Valeria Pilone Categoria esordienti Ha fatto l'emplain Nella categoria giovanissimi Il titolo di campionessa regionale Lo ha portato a casa Chiara Fusco Tra i ragazzi Anno 2008 Un titolo ciascuno Per Alice Ialicicco E Giordana Paolini Che hanno vinto L'una la gara sprint L'altra La gara lunga Nella classifica per società Il team di Antonina Taupo Nova Si è piazzato ovviamente Al primo posto regionale Unica società molisana In gara Calcio giovanile Settimana ricca di impegni Per la scuola calcio Mirabello Domenica Il club Ha ospitato il pescara calcio Nei prossimi giorni Altri appuntamenti In calendario Nicola Vergalito Responsabile delle attività De base del Mirabello calcio È una stagione intensa Dove state raccogliendo Sicuramente tanti risultati Con la scuola calcio Se i campi molisani Ed anche non E dove quest'anno Tra l'altro Avete registrato Così come anche in passato Tanti vostri ragazzi Cresciuti nel settore Giovanile Che per oggi Militano in giro Anche per l'Italia Sui campi di Serie D Sì Sicuramente È un lavoro Che viene da molto lontano Un lavoro Che la società Si sta prefiggendo Di portare avanti Con un certo discorso tecnico Organizzativo E anche Qualitativo Poi Sotto certi aspetti Noi sì Abbiamo dei ragazzi In giro per l'Italia Ci abbiamo Nella Vastese Ci abbiamo Marco Di Rienzo Un portiere Che è cresciuto qui Nella scuola calcio Mirabello Dai primi calci Fino ad arrivare Agli allievi Marco Dell'Aventura Che milita Nella riunione Del Camo Basso E ci sono Ci sta Pistillo Pure che ha esordito Anche con la maglia Del Camo Basso Che ha militato con noi In 2001 E poi c'è De Santis Che è un altro ragazzo Che è cresciuto Diciamo in parte Nella scuola calcio Mirabello Che adesso milita nel Lanciano Ed altronde Anche Nel Lanciano Che sta facendo Ha vinto due campionati E quindi sta portando avanti Un certo discorso Anche lì C'è un grande lavoro Alle spalle Che parte proprio Dalla scuola calcio Per voi Un impegno quotidiano Con società E tecnici A disposizione Dei ragazzi E delle famiglie Sì Noi Ci siamo prefissati Degli obiettivi In modo particolare Quest'anno Di portare avanti Un progetto Come ho detto più volte Anche nel corso Di altre interviste Un progetto importante Che per noi Ci potrebbe far fare Il salto di qualità Come dicevo Sia sotto l'aspetto tecnico Sia anche sotto L'aspetto organizzativo Abbiamo migliorato Tante cose Abbiamo portato Al nostro interno Dei giovani Dei giovani Che hanno voglia Di crescere Insieme a noi Hanno voglia Di portare avanti Un certo progetto E in più Diciamo oggi Nella giornata Odierna Che il Pescara Ci ha fatto visita Ci ha onorato Di questa Di questa Diciamo Giornata Portando La categoria Esordiente Il 2008 I pulcini Il 2009 Il 2010 Che per noi È un vanto Perché non è che Da tutti i giorni Il Pescara Voglio dire Essendo una società Professionistica Si muova Tanto facilmente Di solito È sempre L'andare lì A giocare Non il venire Presso le strutture Diciamo un pochettino Diciamo Dilettantistica Ecco Per voi però C'è un confronto mensile Con il Pescara Ogni mese C'è uno stage Per i ragazzi Ma anche per voi Sì Noi abbiamo sposato Un progetto Col Pescara Calcio Academy Che stiamo portando avanti Nel corso di questa stagione Abbiamo delle visite periodiche Con il nostro tutor Di riferimento Che ogni mensilmente Viene a verificare Diciamo Lo stato qualitativo Lo stato diciamo Tecnico Dei nostri ragazzi In base a delle slide Che loro Ci inviano E che comunque Noi cerchiamo Di far rispettare In base alla qualità Dei nostri ragazzi Cercando di farli migliorare Sempre di più Quindi cerchiamo Di alzare anche Il tasso tecnico E qualitativo Dei nostri ragazzi C'è da ricordare inoltre Che noi In virtù di questo discorso Il progetto Pescara Academy Il giorno 27 Giovedì Avremo qui La psicologa dello sport Che verrà a parlare Con Verrà a illustrare Un progetto Diciamo Sia per i genitori Che per i ragazzi Ma anche per gli stessi tecnici Che per le regole Di buon comportamento In situazioni Queste odierne Che voglio dire Il mondo odierno Porta Porta Voglio dire A distrazioni In tanti modi Ma anche Nel saper gestire Eventualmente Tante situazioni Sia da parte del genitore E sia da parte nostra Della società Noi ce la mettiamo tutta A far crescere In maniera sana I bambini A farli crescere Sia sotto l'aspetto fisico Anche mentale Ma Poi La buon parte Del lavoro Dipende Dalla famiglia Quindi Se le due cose Combaciano Sicuramente Uscirà un ragazzo Diciamo Con delle attenzioni E con delle Situazioni particolari Anche per il suo futuro Per la vita Perfetto Adesso i risultati Maturati in seconda Categoria Seconda categoria Gironea Quattordicesima giornata Castelpetroso Castello Matese 3 a 3 Domenico Desisto Morcone 0 a 1 Limpi Chisarnia Longano 6 a 1 Pesco Lanciano Sant'Angelo 3 a 1 Roccaravindola Rufre Presenzano 1 a 1 32 per Roccaravindola Castello Matese 29 per Rufre Presenzano 25 per Morcone Pesco Lanciano 24 di seguito Le altre Girone B Della seconda categoria Sedicesima giornata Busso Ratino 0 a 0 Casale Down Campobasso Calcio 6 a 3 Fiamma Folgore Locomotive Riccia 0 a 3 Tufara San Giovanni In Caldo 2 a 0 E Volturino Roseto 0 a 0 Riposato Lermestoro Riccia 35 Catalitani 34 32 per il Tufara 28 Volturino 24 Roseto Spostiamoci adesso Nel girone C Questi i risultati Castelmaro Mux Funi Castelro Pignano Roccaravindola 1 a 2 Salcito Montenero 0 a 6 San Felice Real San Martino 2 a 4 San Giorgio Ripabottoni 0 a 0 Dopo la quattordicesima giornata La classifica vede in testa 32 il Montenero Castelmauro 28 27 per il San Martino Insieme anche a Rocca Vivara 18 Castro Pignano Di seguito Le altre Bene E' tutto per questa edizione Del nostro TG Sport Buon pomeriggio Grazie a tutti Grazie a tutti.